eccoci qua nuovamente amici di obiettivo news con una nuova puntata di terra parliamo di una del parco eventuale parco che potrebbe essere istituito dei cinque laghi di ivrea comunque visto che siamo propositivi noi abbiamo presentato questo questo progetto che può essere attuato sia in presenza del parco o sia in assenza del parco e che va a valorizzare veramente quello che è il territorio di per sé ma soprattutto anche le aziende che sono presenti su questo territorio il circolo completo che parte dalla valorizzazione del territorio tramite attraverso le aziende del territorio e arrivi fino al turista che arriva noi vogliamo puntare addirittura al fuori italiano per valorizzare veramente quest'area qui che è un'area veramente molto bella attrattiva che va valorizzata dal punto di vista anche soprattutto mediale